Nella giornata di lunedì 4 settembre, la squadra mobile di Novara, ha dato esecuzione al decreto di carcerazione emesso dalla locale procura della Repubblica nei confronti di un cittadino tunisino residente in città di 41 anni, gravato da precedenti di polizia e penali in materia di reati contro la persona, decreto con cui è stato disposto l'accompagnamento presso la casa circondariale di Novara dovendo l'uomo scontare la pena residua di 3 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.